E ancora una volta ciao ragazzi e benvenuti in un daily vlog Presto inizieranno come sapete le avventure del conte Dracula Però vi informo che non saremo tutti e quattro forse Ma saremo due forse Quindi non si saprà Poi io ve lo annuncerò quanti saremo Comunque raga vi ricordo di iscrivervi al canale C'è sia questo qua, Theam dello spazio GGMN E poi il prossimo canale che ancora non c'è su Youtube Però poi vi dovete iscrivervi Perciò io vi ricordo che domani uscirà un video alle 10 e l'altro all'una Perché alle 16 non ci sarà e quindi uscirà all'una E però all'una sarà una live Invece alle 10 ci sarà un video di Fortnite Vi ricordo di lasciare 30.000 like E noi ci rivedremo domani sul video di Fortnite Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti